Benissimo, direi sono le 21.35, possiamo cominciare ufficialmente la diretta e quindi lo studio della trentesima giornata di campionato di Serie A. Vi faccio vedere la sigla e poi vi porto all'interno del superfoglio, quindi sigla. Benissimo, eccoci di nuovo, allora andiamoci a prendere il superfoglio e vediamo un po' la giornata numero 30. Allora cominciamo, abbiamo detto sabato, quindi domani alle 15, spezia crotone, una delle ultime chance per il crotone per provare a salvarsi. Abbastanza disperato pure il Parma contro il Milan alle 18 e poi un match, oddio, qua rischia un po' di più il Torino, però diciamo che magari se facessero un punticino potrebbe interessare a tutte e due Udinese-Torino. Poi domenica abbiamo Inter-Cagliari che potrebbe, non so quando è che comincia a essere decisivo dal punto di vista proprio numerico per lo Scudetto, però insomma diciamo che l'Inter è bella avanti con lo Scudetto. Juve-Genova, poca roba, ci sarà da vedere, nel senso sappiamo già chi vince. Questa mi interessa parecchio, è la Sverona-Lazio perché sapete che ho un debole per il Verona e secondo me farà soffrire la Lazio, così come credo che farà soffrire il Napoli la Samp. Roma-Bologna spero che dopo la, io sono onesto, sculata di Coppa perché la Roma ha sculato in Coppa. Non è che voglio parlarne sempre forza male o non sono uno di quelli che non sono contenti neanche quando vincono. Sono contento che ha vinto, però vedendo la partita la Roma ha sculato perché poteva tranquillamente perderla e Paolo Lopez, anche se stavolta ha fatto belle parate, ha parato il rigore e tutto, continua per me a essere un tassello negativo per la Roma. Quindi spero che non soffriremo con il Bologna. Fiorentina-Atalanta, match interessante e anche interessante sarà vedere Benevento-Sassuolo. Quindi queste sono le partite che ci andiamo a studiare oggi. Allora, Spezia-Crotone. Il Crotone, abbiamo detto, è praticamente disperato, mentre per lo Spezia già fare un punto, secondo me, potrebbe essere una buona cosa. In casa non va male perché comunque ha raccolto otto risultati positivi tra pareggi e vittorie. Il Crotone non ha mai vinto in trasferta. Difficile immaginarsi una sortita offensiva del Crotone vincente, sinceramente. Qui l'allibramento è alto perché è un punto più alto della media e la quota dello Spezia è in crescita. Quindi in questo momento i fattori che vediamo non sarebbero favorevoli allo Spezia. Però comunque le statistiche invece sì. E secondo me anche l'aspetto delle sottofrequenze statistiche è favorevole allo Spezia. Io sarei... è vero che c'è la Formula 4, quindi possibilità del gol del Crotone, tutto quello che vogliamo. Però ci stanno certe volte che a determinati numeri, come questi, che sarebbero tutti negativi per lo Spezia, secondo me ha più valore invece l'effettivo valore del campo, cioè l'effettiva statistica del campo. Non sempre le quote. Il fatto che il bookmaker alza una quota può significare che vince l'altra squadra. Perché qua il Crotone nell'ultimo periodo non... cioè quattro sconfitte e una vittoria. È vero che questi non è che fanno molto meglio, però io non penso che il Crotone vinca contro lo Spezia, quindi me la metto sulla 1x. Intanto guardavo eventuali commenti. Parma-Milan. Allora, il Milan diciamo che è abbastanza obbligato, tra virgolette, a vincere, perché la corsa si fa abbastanza serrata per la zona Champions. Adesso in realtà dovremmo farla anche noi, inserire la classifica totale. E qui per adesso me la vado a prendere sul superfoglio. Era una modifica che avevamo preparato, non lo so perché Viviana non l'ha messa più online, mi devo ricordare di chiederglielo. Quindi la vedo su diretta.it, perché comunque quando arrivi nella parte finale della stagione diventa importante. Mentre durante tutto l'arco della stagione è anche, insomma, chi se ne frega della classifica intera, quando arrivi nelle ultime 7-8 giornate comincia a diventare un fattore importante. Quindi qua il Milan lo vediamo. Un punto più della Juventus, due punti in più dell'Atalanta e quattro in più del Napoli. Quindi per entrare in Champions, che sarebbe comunque un risultato abbastanza straordinario per il Milan, perché all'inizio della stagione non si parlava certo di questi traguardi, secondo me non può permettersi di non vincere col Parma. Il problema del Parma è che è veramente disperato. Deve fare punti a tutti i costi. E qua c'è il Cagliari che andrà con l'Inter, quindi dovrebbe cercare di sfruttare la probabile sconfitta del Cagliari, il Parma e il Torino che va a Udine. Quindi da un punto di vista emotivo qua entriamo anche nell'aspetto della stagione in cui cominciano ad avere valore anche le motivazioni. Quindi al di là dei numeri, nudi e crudi, dobbiamo anche pensare a quello che può essere la motivazione del Parma. Il fatto che ci sia la Formula 4 a me fa pensare che un gol il Parma potrebbe farlo. in questo momento l'over è un po' alto. Vediamo un attimo il gol. Mentre il gol è abbastanza equilibrato. Io un rischio dell'esito gol ci potrebbe stare, onestamente. Più cautelato si potrebbe andare sull'over 1,5. Cioè non mi sorprenderei se potesse finire un 1-1, per esempio. Lui non lo contempla dai risultati che vedo. Cioè si fida di più del Milan, anche se comunque il possibile 2 è da interpretare come una X2. Altrimenti ci avrebbe detto ottimo 2 o probabile 2. Il possibile 2, diciamo che è molto favorito il Milan, però un minimo di chance al Parma glielo lascia. Quindi il possibile 2 è una X2 che secondo me potrebbe anche starci con l'esito gol. Over 1,5 è una scelta più cautelata che credo dovrebbe tutelarci, insomma. Udinese contro il Toro. Qua lo dicevamo poco fa. Il Toro in questo momento è salvo, ma sta a due punti sopra il Cagliari. Ha poco da essere tranquillo. Contro l'Udinese invece, che probabilmente dopo due sconfitte consecutive contro Atalanta e Lazio, gli potrebbe anche stare bene un pareggio. Perché comunque, diciamo che a 34, insomma, ti tieni abbastanza a distanza al Torino. Non sarebbe malvagio secondo me per l'Udinese il pari. Under 3,5 da quel che riguarda le quote. Sì, qua, non so perché, in questo momento è completamente paritario rispetto alla quota reale allibrata, però lo ha alzato rispetto alla quota di apertura. Vediamo un attimo il gol, no gol. super equilibrato e in allibramento addirittura rosso da 6,73 medio di media, cala drasticamente a 4,71. Questa sarà curioso capire che vuol dire, perché sul gol non mi è capitato così tanto spesso di vedere una situazione del genere. Beh, per le necessità del Torino, pure qui un gol del Toro ci starebbe, al di là dei numeri, cioè l'esito gol qua sta al 51%, quindi è bassissimo e le quote ce lo confermano assolutamente equilibrato. Bassissimo nel senso che non è una statistica prevalente, è molto equilibrata. Secondo me questa, come rischio sul multigol 1-3, cioè ce lo potremmo prendere, perché credo che... cioè comunque il Toro sia costretto a cercarlo il gol, quindi che poi lo faccia lui, o per scoprirsi e farlo lo fa fare all'Udinese, secondo me almeno un gol in un match del genere c'è. E, vediamo un attimo la statistica, è piuttosto alta, non mi sorprenderebbe neanche una ipotesi di X primo tempo. Qua l'allibramento va un po' in calo, le quote sono molto alte. Secondo me qua un gol del Toro si va a trovare, onestamente. però diciamo che multigol 1-3 generale ci può stare. Tony Ray dice anche 0-0. Sì, anche 0-0 perché comunque un punto per il Toro andrebbe comunque... cioè, oddio, non bene però... non mi convince lo 0-0, ti spiego subito perché. Allora, qua il no-goal era favorito e adesso torna in bilico e l'under che era favorito si alza. Quindi diciamo che tutte e due le quote sui gol, anche se in maniera molto leggera, però favoriscono almeno una rete perché il no-goal si pareggia, la quota si alza. L'under si alza, il Toro è disperato, deve cercare di fare punti a tutti i costi, secondo me un golletto ci potrebbe stare. Questa è la mia, diciamo, interpretazione. Queste cose, come ho detto spesso, non c'è una università, no? Non è come il medico. Tu studi per fare il medico e ti dice che il cuore sta qui, la valvola entra da lì. Per il betting non c'è una cosa del genere, cioè non c'è nessuno che ti dà la certezza che quella procedura che vedi è così. Lo fa l'esperienza. Io, per esperienza, quando ho visto altre volte quote in questo modo, un golletto ce l'ho visto scappare fuori. Poi ovviamente le partite lo abbiamo visto anche ieri con la Roma, no? Cioè la Roma se andava sotto 2-0 non potevi lamentarti di nulla. Poi invece Pellegrini segna su una papera del portiere. Ibanez segna che non lo sa manco lui come ha fatto. Quindi sbagliano il rigore, prendono in faccia Paolo Lopez 7-8 volte e vince la Roma. Quindi la certezza che una configurazione si verifica al 100% non ce l'avrei mai. Però per esperienza, secondo me, un golletto ci potrebbe stare quantomeno motivato da queste cose che ti ho elencato. Poi potrebbe tranquillamente finire 0-0 perché comunque al Toro anche portare via un punticino considerando che il Cagliari diciamo al 90% perde, adesso lo vediamo, potrebbe comunque essere un fattore positivo. Allora, unico elemento che possiamo andare a individuare come negativo per l'Inter è la partita col Sassuolo, cioè il fatto che magari sia stanco, tra virgolette. A me Conte, lo sapete, ne ho parlato spesso durante la stagione, non piace nella maniera più assoluta, non tanto come allenatore, ma quanto, diciamo, come atteggiamenti personali, no? Uno sempre lamentoso, poi sempre polemico, è sempre non gli si può di niente, si offende, fa le battutine, insomma, a me Conte non mi sta simpatico, ecco. Però, dal punto di vista dell'allenatore, è uno a cui devi riconoscere i suoi meriti, cioè, il fatto che non mi stia simpatico a livello personale, non può non dare il valore che ha l'Inter e non può non dar valore al fatto che queste partite qua, Conte raramente le sbaglia, raramente le sbaglia. Quindi, secondo me, questa vince l'Inter senza neanche stare a guardare altre cose, onestamente. praticamente identico il discorso non su Conte, quindi non per Pirlo, ma, come ho detto, ogni tanto guardo qui per vedere se ci sono dei commenti. Non per Pirlo, ma per la Juventus in generale. La Juve, quando fa un pareggio e una sconfitta, la chiamiamo, cioè, la tiriamo nella crisi, no? Perdi con il Benevento è una partita assurda. Pareggi con il Torino, Juve in crisi. In realtà, poi, vediamo sempre la Juve ritornare cannibale come è abitualmente. Quindi, anche qui, secondo me, c'è poco da studiare. Vince la Juventus. Genoa, tra l'altro, che per un anno non è neanche in fase disperata di zona salvezza, perché di solito l'abbiamo sempre trovata qua negli ultimi anni il Genoa, quindi c'è pure 32 punti, sta pure sereno. Secondo me vanno a Torino, si guardano un po' lo stadio, si fanno un giretto ai Navigli e tornano a Genoa che non se ne sono neanche accorti di quanto è finita la partita, secondo me. E poi, finalmente, arriviamo a quello che francamente considero il match più interessante, perché comunque il Verona è una squadra sorprendente. Cioè, diciamo che la classifica si spezza qui, dopo la Roma, perché ci stanno dieci punti di differenza e quindi le uniche, diciamo, ancora in ballo per qualcosa stanno fino qui, poi dal Verona fino al, oserei dire, Genoa difficilmente saranno coinvolte in qualcosa. Fiorentina e Benevento, secondo me, sì, certo, se proprio avranno un tracollo rischiano, però, diciamo che se mediamente mantengono questo atteggiamento che hanno avuto finora, si salveranno tranquillamente e il discorso salvezza rimane tra Spezia, Torino e Cagliari, mentre che credo che Parma e Crotone a meno di stravolgimenti proprio allucinanti, direi che sono già retrocesse, senza, non me ne vogliano ovviamente i tifosi delle rispettive, però non la vedo molto, non le vedo messe molto bene, non mi sembra che abbiano proprio il piglio, qua mi fa ridere il fatto che qua l'unica vittoria che ha fatto il Parma e contro la Roma per il resto poca roba, quindi dicevamo Verona sorprendente e Lazio che deve mantenere quanto meno guardate qua la qualificazione alle qualificazioni dell'Europa League, cioè Roma e Lazio quest'anno veramente con l'exploit che ha avuto il Milan rischiano non solo di non finire in Champions, in Champions temo che la Roma non ci entri proprio e probabilmente neanche a Lazio e una delle due rischia proprio l'Europa di non andare in Europa, francamente se la Roma deve fare sempre queste stagioni così, io mi augurerei che tra sesto e settimo posto preferisco il settimo, cioè preferisco non andare in Europa piuttosto che fare le qualificazioni, quindi questo è un mio pensiero ovviamente Lazio appunto chiamata la vittoria per forza contro il Verona per cercare di inseguire Napoli e Atalanta però non è così facile andare a Verona e vincere cioè il Verona in casa ha perso cinque partite ma ne ha vinte sei e pareggiate tre la Lazio in trasferta ha fatto bene sette vittorie però ha anche cinque sconfitte due pareggi secondo me non non te la regala al Verona questa partita veniva da un momento difficile tre tre sconfitte poi ha vinto a Cagliari io questa la concederei massimo sulla X2 non non mi fiderei di andare oltre anche perché la quota è molto alta e in questo momento pure la libramente è molto basso o quanto meno molto no però si sta abbassando mi trovo d'accordo con l'ipotesi di un gol del Verona assolutamente quindi X2 ma eventualmente anche gol casa al 71% di di statistica mi sembra una buona una buona possibilità qua è tutto molto equilibrato diciamo comunque un valore alla Lazio sul fare punti bisogna darglielo secondo me X2 non so non credo che vincerà a mani basse poi magari vince però non a mani basse non credo situazione praticamente identica praticamente identica questa tra Sampdoria e Napoli Samp sta un pochino indietro rispetto al Verona Napoli ha due punti in più rispetto alla Lazio Napoli che ha perso contro la Juventus nel recupero di questa fatidica terza giornata Samp che è andato a fare bella figura col Milan che lo ha costretto all'1-1 anche se diciamo magari il Milan un pochino avrebbe da recriminare cioè comunque c'è quel palo di che si è al 92esimo altre varie situazioni partita non facile per per il Napoli quota il leggero rialzo c'è sempre la formula 4 metterci dentro un golletto della squadra sfavorita quindi in questo caso della Sampdoria esito gol a 1.67 no non sarebbe male come rischio da prendersi mentre il gol no gol scusate l'underover anche l'underover a 1.67 allora mi trovo d'accordo con la possibilità dell'over 1.5 cioè diciamo mi trovo d'accordo con la possibilità che ci sia anche un over completo 2.5 l'1.5 è più cautelato perché comunque il gol e l'over hanno la stessa quota se ci pensiamo non ha molto senso come cosa perché l'over sono 3 gol il gol ne sono 2 perché hanno la stessa quota solitamente il gol quando l'over è più probabile che si verifichi ha una quota più bassa perché appunto 2 gol con il gol e poi l'over quindi quando l'over ha la stessa quota del gol io non gioco o comunque troppo vicino a quella del gol non lo giocherei l'over mi sembra più giusto cautelato l'over 1.5 qua possiamo scegliere varie cose tra i rischi appunto l'over 2.5 l'esito gol che comunque mi sembra un rischio ma abbastanza calcolato oppure a chi predilige multi-goal ci metterei il multi-goal 2.4 2.4 perché due gol secondo me ci stanno in una partita di questo genere ci stanno assolutamente ecco Tony infatti lo stavo stavo dicendo proprio adesso ci stanno assolutamente due gol visto che l'over non è che è bassa la quota cioè non è che è alta la quota 1.67 è giusta diciamo che non mi immagino 5 gol quindi potrebbe finire non so 2-1 Napoli 2-2 1-1 cioè in questo range 2-4 secondo me è corretto non so dipende dai bookmaker perché non tutti ce l'hanno potrebbe essere un po' più cautelato il 2-5 io qui nelle statistiche valuto il 3-5 che è più difficile e più è sicuramente pagato meglio qua potrebbe essere più cautelato 2-5 oppure rischietto che secondo me ci sta il multi-goal 2-4 se la vogliamo invece prendere più sotto gamba più tranquilla over 1.5 come ci suggerisce lui mi sembra una visione corretta adesso finirà 0-0 però ovviamente io questo non lo posso sapere prima no scherzo mi auguro di no mi sembra uno studio corretto sul Samp squadra casa segna 1-40 sì secondo me un golletto della Samp pure ci può stare tranquillamente anche se le quote sì poi c'era la formula 4 pure sì le quote vanno anche a rialzo secondo me a 1-40 il gol della Samp è un'ottima quota veramente perfetta ci può stare tranquillamente il gol della Samp in più c'è pure Quagliarella che al Napoli ha fatto sempre dei gol assurdi quindi direi che ci può stare Roma Bologna allora adesso io già solo vedendo questa parte arancione già solo qua mi viene nervoso perché Roma Bologna che ci sia la 1x cioè è da vergognarsi qua dovevi trovare l'1 secco senza proprio storie invece purtroppo le sottofrequenze statistiche ci dicono che con questo range di quote di statistiche qua con questo range di quote qua con questo range di differenze l'esito che si verifica più spesso è la 1x purtroppo cioè manco gol Bologna vinciamo va bene allora cerchiamo di analizzarlo c'è la formula 4 quindi è pericoloso gol Bologna nella formula 4 lo sappiamo che i due esiti lo ripeto l'ho ripetuto mille volte ma ogni volta lo ripeto perché magari chi è la prima volta e guarda i video non non lo sa con la formula 4 ossia quando almeno cioè no almeno due quote su tre si si trovano nel range del 4 due esiti si verificano più spesso e sono l'over 1.5 che è l'esito in assoluto che si verifica di più e il secondo esito il gol della squadra sfavorita quindi in questo caso il Bologna andiamo a vedere qualche altra quota il gol è in leggero rialzo e in allibramento addirittura rosso quindi più alto della media di oltre un punto e 90 pericoloso quando è rosso allibramento tra l'altro dico una cosa poi questa la dirò con calma stiamo per cambiare il colore dell'arancione perché l'arancione è veramente molto simile al giallo quantomeno su quello che viene fuori dal nostro computer e a volte si confondono quindi l'arancione lo faremo diventare viola così sarà verde ottimo giallo buonino viola comincia a essere pericoloso rosso pericoloso perciò insomma poi questo quando lo facciamo ne stavamo parlando oggi con Viviana lo ufficializzo però succederà a breve quindi gol addirittura rosso molto pericoloso da quello che dice qua va bene over basso allora anche questa come avevo detto prima il gol l'over a 1.53 il gol a 1.57 a me quando è così non mi piace mai perché il gol è vero che una squadra cioè devono segnare tutte e due l'over potrebbe finire 3-0 per la Roma però mediamente non ne sono convinto tanto più che la Roma non ha una vittoria che si porta da casa se era non so Juve e Benevento che poi ha vinto il Benevento però nell'immaginario dello Juve e Benevento mi sta anche bene l'over più basso perché tu immagini che il Benevento non segna e la Juve ne fa 5-6 è ok però con quote così equilibrate perché queste quote qua sono equilibrate a 1.65 io la Roma secca l'esito 1 non lo giocherei mai con questa configurazione qui perché la statistica non è alta 51 la quota sale sta diventando non statistica perché per ora è al 14% però sappiamo che è statistica fino dentro al 15 16% quindi vuol dire che sta proprio al limite e l'uno secco purtroppo non ce lo metterei mai qua tutte le scelte porterebbero ad una quota bassa perché 1x quota bassa over 1.5 quota bassa l'unico rischio che uno può prendersi visto la difesa del del Bologna che concede un pochetto l'attacco della Roma che comunque è discreto è il fatto che che segnino nel primo tempo c'ha una statistica abbastanza alta 81% mi sembra una buona una buona statistica però questa partita non mi piace per niente poi io la Roma la sbaglio sempre quindi probabilmente la sbaglierei anche in questo caso vedo un paio di commenti che ci stanno cose lunghe da leggere allora Verona Lazio gol Verona Spezia Crotone gol gol Samp Napoli gol Samp Verona Lazio gol Verona Roma Bologna gol Bologna sì ci può stare 1x più 2 che significa cioè più over 1 e mezzo intendi se è 1x più over 1 e mezzo sì c'hai assolutamente ragione perché con con la formula 4 si si verifica quasi sempre l'over 1 e mezzo l'1x spero perché insomma se non facciamo punti manco col Bologna vabbè ammazzamose e poi andiamo a vedere Fiorentina Atalanta Fiorentina Atalanta guardate quando parlo delle sottofrequenze statistiche la differenza allora qua abbiamo visto la Roma praticamente con le stesse quote cambiavano di pochissimo era buono 1x anche le statistiche non erano troppo diverse 21 24 54 vediamo un attimo 21 27 beh la differenza c'è tra l'1 e il 2 quote molto molto simili però si passa dal buono 1x all'ottimo 2 perché? perché nelle sottofrequenze cosa molto importante è la quota reale allibrata e la differenza tra quota reale e quota attuale quindi qui è del 9% 14% 7% di qua di Roma non mi ricordo però qua mi sembra intorno al 14 la vittoria della Roma era al 14% quindi la parte dell'algoritmo questa qui delle sottofrequenze è fatta da all'incirca mi sembra 1300 combinazioni 1300 combinazioni che si basano su questo range statistico questo range statistico questa quota quest'altra quota e questa quota qui quindi la differenza tra quota reale allibrata e quota attuale noi o meglio noi lo vediamo tutto ma lo scommettitore medio quello che va a studiare sul bookmaker si trova questo che è identico praticamente alla Roma perché invertendo in casa l'Atalanta era 1,65 più o meno 4,75 4,20 quindi quote identiche quello pensa vince l'Atalanta vince la Roma invece andiamo a vedere che le sottofrequenze ci raccontano tutt'altra storia ossia la Roma rischia di non vincerla l'Atalanta se si mantiene questa configurazione qui perché ovviamente cambiando le quote potrebbe cambiare la configurazione della sottofrequenza e quindi cambiare anche l'esito del pronostico però se si confermasse una situazione del genere l'esito che si verifica più spesso è la vittoria della squadra in trasferta e quando c'è l'ottimo si verifica se non mi ricordo male oltre il 72% delle volte quindi dal 72% in su perciò è un'ottima valutazione e non è facile io sapete bene non amo gli esiti 2 però sull'Atalanta sinceramente ce la rischierei anche perché comunque qua la lotta è abbastanza serrata l'Inter abbiamo detto Scudetto non è ancora matematico ma poco ci manca però insomma l'Atalanta potrebbe arrivare seconda però deve anche addirittura stare attenta al Napoli quindi con una Fiorentina pressoché beh oddio no pressoché salva no perché a 30 ancora ci sta un po' dentro al discorso salvezza però l'Atalanta è una squadra capace assolutamente di andare a Firenze e a vincere in tutte le condizioni unico elemento negativo che possiamo avere di questo studio sull'Atalanta è il fatto che comunque giocano l'11 alle 20.45 adesso sono le 22.10 del 9 quindi praticamente ci stanno ancora 48 ore perché queste quote cambino e le sottofrequenze stravolgano i risultati è per questo motivo che dico sempre che la cosa migliore è studiarle nel due ore precedenti tre ore precedenti al massimo perché almeno abbiamo poche variazioni subiamo poche variazioni quando ne subiamo troppe studiare due giorni prima non è non è il massimo quindi tanto più diventa poco secondo me valutabile lo studio di Benevento Sassuolo che si disputa addirittura tra tre giorni qua possiamo vedere solo le frequenze statistiche quote potrebbero cambiare mille altre volte difficile studiare tre giorni prima secondo me per quella che è la necessità del Benevento un golletto del Benevento io ce lo metterei scusate intanto leggo i commenti la Roma torna da una trasferta impegnativa eh sì assolutamente si è rotto pure Spinazzola quindi non è una buona situazione per la Roma Benevento Sassuolo questa è complicata proprio perché le quote sono bassine per una quota cautelata quindi che ci metti di cautelato sarebbe troppo basso la statistica del gol è molto molto alta 63 approfondiamo allora due gol subiti di media dal Benevento il Sassuolo segna perché segna però subisce abbastanza eh gol su questa certo andrebbe ristudiato il giorno stesso è un po' più alto della quota reale allibrata però diciamo un rialzo statistico fino al 7 8 massimo 10% possiamo anche tenerlo valido però certo qui è molto alto l'allibramento in questo momento cioè mi interesserebbe mi piacerebbe rischiare questo gol ma con l'allibramento rosso no qua ci rimetterei un multigol 2-4 allora multigol 2-4 non mi ricordo qual era la partita in cui l'abbiamo valutata allo stesso modo era più o meno una situazione simile over 1,5 secondo me su questa partita è sicuro cioè oddio non fa non diciamo sicuro perché altrimenti poi finisce 0-0 diciamo che è molto probabile niente assicuro però molto probabile l'over 1,5 multigol 2-4 secondo me dà una buona configurazione alla cosa credo che ci possa stare e direi che con questo ci siamo visti tutto mi torno a vedere un po' i commenti la striscia arancione quanto è affidabile in percentuale non non c'è una percentuale sulla striscia dell'attenzione quello è un riassunto statistico di quello che succede nel match questa cosa mi è stata cioè io le statistiche di tutto ce l'ho ma secondo me è sbagliato dirle perché altrimenti le persone escono dalla intanto torno a metterci completamente il faccione escono dal concetto di studio e si affidano al concetto di clicco e guardo quello che dice l'arancione non è così cioè il superfoglio io l'ho concepito come strumento di studio poi ognuno è libero di fare quello che vuole cioè apre clicca e scommette ovviamente io non posso dire di non farlo però siccome io non voglio promuovere quella cosa le statistiche interne le dinamiche interne di tutte quante ne vince cose non le non le divulgo perché altrimenti direi una cifra e poi so che le persone ci vanno a scommettere solo perché ho detto quella cifra e se quella volta specifica perde poi la colpa è mia che ho d'età però doveva vincere al 73% non è così è un riassunto dello studio quindi invece uno di guardarsi tutti i numeri o prima di guardarsi tutti i numeri sa che quella partita il riassunto è la stringa arancione poi se la approfondisce e capisce se è giusto se è più cautelato se è da stare attenti su un'altra cosa questo è per come l'ho concepito io quindi la statistica la percentuale di affidabilità non la non la divulgo né su quella né sulle singole né chi sta dentro tanto lo sa le vede però le deve vedere per conto proprio non anche perché poi ci stanno 157 campionati cioè magari dico oggi 73% e domani è 71% e poi martedì è tornato 74% cioè ci stanno talmente tante partite che le statistiche variano quindi non non credo che sia neanche corretto cioè ti potrei dire oggi adesso è 73% però tra sabato e domenica ci stanno circa 300 partite è ovvio che 300 partite non è che da 73 lo fanno diventare 50 però magari da 73 diventa 71 o magari diventa 75 e quindi non è cioè diventa così è poco affidabile per questo motivo non è per altro se avete altre domande fatemi sapere altrimenti chiudiamo la diretta anche perché è durata quasi un'ora stasera in libertà ce la siamo presa e fatemi sapere allora le squadre con le quote abbassate che intendi cioè se un allibramento rosso è sul gol no gol quale delle due favorirebbe perché non ho capito proprio la domanda eh Raffaele non so se ma l'abbassamento non è l'abbassamento dell'allibramento non è che c'è su una quota cioè questo allibramento qua non è che c'è su una delle tre quote è l'allibramento che è più basso dell'allibramento medio quindi in questo caso su quale quota la la dovresti vedere allibramento cioè se questo fosse 340 per dire non ci avrebbe nessuna nessun legame col fatto che l'allibramento è più basso di quello medio attento perché altrimenti rischi di confonderti l'allibramento rosso è rosso rispetto all'allibramento medio ma non c'entra nulla su quale delle quote si abbassa di queste cioè potrebbero abbassarsi tutte e tre e crearlo o alzarsi tutte e tre e crearlo non so se mi sono spiegato va bene ragazzi io direi che vi auguro buonanotte ok mandami una mail con esempio così capisco meglio quello che mi dici vi auguro la buonanotte e ci sentiamo in questi giorni tanto credo che le coppe ci siano già questa settimana allora aspetta mica l'ho capita la domanda sai la percentuale l'algoritmo è lo stesso poi ovviamente le percentuali in Germania cambiano rispetto a quelle in Italia però il calcolo dell'algoritmo è sempre lo stesso se parli di percentuali se parli di allibramento anche è calcolato sempre allo stesso modo però poi ogni nazione c'ha il proprio cioè che ne so qua è medio 5,69 in Italia magari in Germania un altro non lo so vediamolo in Italia 5,69 in Germania vediamo un attimo 5,64 in questo caso è simile però poteva essere anche molto di più questa sta giocando 1 a 0 1x under 3,5 io gli avevo dato multicoll 1,3 questa per esempio sta andando bene se era questa la domanda non lo so ciao ragazzi buonanotte